Sicuramente una gran bella prestazione dal punto di vista caratteriale, la squadra non si è disunita nei momenti di difficoltà, nel momento in cui siamo rimasti in dieci proprio al 48esimo, oltretutto comunque era già una sostituzione programmata quella e quindi devo dire che da un punto di vista caratteriale la squadra ha dimostrato di averlo e quindi mi auguro che continueremo a metterlo anche nelle prossime partite. Da un punto di vista tattico è valutabile soprattutto il primo tempo, il secondo tempo è stata più che altro trincea anche se ci siamo difesi con ordine, anzi devo dire che ci siamo difesi anche meglio rispetto al primo tempo perché lasciavamo troppe ripartenze soprattutto dalla parte di Millico perché non eravamo pulitissimi nell'impostazione di gioco, perdevamo tante palle e loro ci ripartivano con i loro tre attaccanti larghi mentre noi avevamo i nostri tre centrali stretti e quindi andavamo sempre un po' in difficoltà. Se guardate i convocati oggi eravamo con tre portieri, 19, quindi non è che avevamo grandi altre opportunità se non fa giocare un giocatore di ruolo in quel ruolo. Cicerelli non era nelle condizioni fisiche dopo i 90 minuti, i 100 minuti della partita in casa con Monopoli per giocare anche oggi, sicuramente martedì sarà fresco, è l'unico giocatore in questo momento che abbiamo lì a sinistra, che domenica, martedì a Picerno non avremo, è Averi. Più perdiamo per infortunio Zammarini, insomma un momento un po' particolare, un po' sfortunato. Diciamo che avevo detto che le troppe partite ravvicinate e il tempo erano il nostro nemico, ci metterei anche gli infortuni che stiamo avendo praticamente in ogni partita. Immagino che potenzialmente potendo lavorare con tutti e 24 giocatori, potendo allenarli anche da un punto di vista dell'intensità, potendo lavorare nelle settimane tipo, cercando di dedicare più spazio ai nostri concetti e alla nostra tattica, è sicuramente una squadra che in prospettiva farà, non può fare, farà molto di più. Ovviamente il nemico è il tempo, il nemico sono le partite ravvicinate, il nemico sono i continui infortuni, quindi oggi dobbiamo prendere di buono quello che questi ragazzi stremati, molti impiegati per tantissime partite consecutive, riescano a fare. Quindi dobbiamo rimanere umili, sapere che sarà grande sofferenza fino al 7 di aprile e cercare di portare via la pelle un po' ovunque, quando saremo in difficoltà e dovremo soffrire. Abbiamo preparato la settimana in un certo modo, poi sapevamo che fosse un campo difficile, sapevamo che non fosse una partita facile e dopo il gol abbiamo avuto un po' di difficoltà nel gestire il pallone, quella è stata un po' la difficoltà, poi l'espulsione ci ha un po' penalizzato, altrimenti io penso che avremmo potuto fare tutta un'altra partita nel secondo tempo. Però è emesso pure che loro lì a centrocampo ad un certo punto, vuoi anche per la superiorità numerica, hanno gestito meglio il gioco, il fraseggio, cosa che a Catania è riuscito davvero poco questa sera. Abbiamo preparato la partita, volevamo gestire la partita in modo diverso, poi ci sono partite che vanno come le prepariamo, partite che vanno diversamente, comunque ci prendiamo questo punto che abbiamo ottenuto con sofferenza, abbiamo dimostrato con un uomo in meno di poter reggere, siamo stati anche poche ma alcune volte pericolosi, quindi potevamo volendo anche portarla a casa. Senti, le condizioni del campo, perché ti abbiamo visto anche ad un certo punto affaticato, forse il terreno non era proprio in ottime condizioni? Sappiamo che giochiamo in Serie C, non ci aspettiamo Wembley, è un campo difficile ma praticabile, nelle mie condizioni penso di aver speso molto, aver fatto molto lavoro sporco e quindi di conseguenza mi sono stancato. Insomma, ad un certo punto sembrava, ad inizio di partita, l'approccio giusto, il vantaggio con il tuo gol, poi alla distanza il Foggia ha preso un po' le contromisure, è anche vero o no che probabilmente il fatto di rimanere in dieci uomini per tutto un tempo vi ha un po' condizionato? Sì, sicuramente l'espulsione ci ha condizionato un po' in negativo, sapevamo che non sarebbe stata una partita facile, così è stato, siamo passati in vantaggio meritatamente, abbiamo provato a giocare anche se le condizioni non erano il massimo, ma al di là di quello sono contentissimo perché poi la squadra ha reagito, ha fatto una grande prova di carattere e il punto che abbiamo portato a casa è tutto di guadagnato. Ecco, diciamola francamente, nelle partite così difficili, quando poi girano in questo modo, poi avete avuto anche l'infortunio di Zammarini, quindi in questo momento diciamo che non è proprio il massimo, non vi gira proprio benissimo. Questo pareggio però è un punto guadagnato proprio frutto del fatto che questa squadra comunque, anche se non ha dimostrato, diciamo, il lato migliore, quello propositivo, ma dal punto di vista caratteriale è una squadra che ha mostrato di saper soffrire. Sì, siamo arrivati al punto della stagione dove non ci possiamo attaccare più alla fortuna o alla sfortuna, siamo arrivati a un punto dove bisogna assolutamente fare qualcosa in più e oggi penso che al di là di tutto la squadra ha dimostrato grande carattere, siamo rimasti in dieci per circa 60 minuti, penso, abbiamo sofferto, abbiamo potuto soffrire, abbiamo portato a casa un punto che è quello che volevamo più di qualsiasi altra cosa. Quindi diciamo che poi si cresce anche così, non solo con i quattro goli tra gol? No, 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 magari questo punto, magari tante altre volte abbiamo detto che la vittoria fuori casa sarebbe stato un punto di partenza, invece sono contento che oggi è arrivato questo punto per via della prova caratteriale della squadra e spero davvero che possa essere un vero punto di partenza. Buonasera mister, un buon punto ma un'ottima prestazione, non fa niente che non ha vinto, il Foggia è sulla strada giusta, l'ha dimostrato. Le faccio due domande molto brevi, la prima, quando è rimasto in superiore a numerica, a chi ha detto di fare, mi perdoni l'imprecisione il Giolli, cioè a chi ha tolto il compito di marcatura. Magari nell'ultimo quarto d'ora ci siamo accorti tutti che c'è del doppio centravanti e quindi se c'è stata qualche decisione da parte sua. E la seconda domanda, non sarebbe opportuno portare la squadra una settimana in ritiro, assolutamente non punitivo ma conoscitivo, farli stare insieme, farli vivere assieme, cominciare a migliorare l'intesa anche sulle palle inattive se hai visto un Foggia che è cresciuto. Grazie. Partiamo dalla fine. Andare in ritiro, tra virgolette, per conoscersi sicuramente può aiutare, ma siamo insieme tutti i giorni, quindi lo siamo anche qua. A volte bisogna stemperare anche un po' di tensioni, quindi stare insieme ci potrebbe aiutare, però credo che possa essere sufficiente lavorare qui a Foggia giornalmente. Per quanto riguarda l'aspetto tattico, non ci sono state grosse indicazioni per liberare qualcuno. Avevamo già la subietà numerica e sicuramente la subietà numerica la dovevamo andare a cercare sugli esterni, molto di più sugli esterni. siamo stati a volte si bravi, un po' meno costanti nel farlo. Abbiamo, non dico permesso al Catania di difendere bene, perché poi le difficoltà le abbiamo create, però devo dire che dobbiamo farlo ancora di più, quindi a volte ci siamo malintestarditi individualmente nel poter fare una giocata individuale e questo magari non sempre è produttivo, quindi bisogna giocare un po' più di collettivo per il terzo uomo, per il compagno che si inserisce. Però devo dire, chiudo con la prima domanda che ha fatto lei, avrei preferito fare tre punti, giocando forse un pochino peggio, però sono molto contento dello spirito che hanno avuto i ragazzi. Non è semplice, abbiamo cambiato molto, non è semplice cambiare anche in questo momento coordinato in mezzo al campo, e quindi sono contento dello spirito che hanno messo e credo che poi la gente alla fine abbia apprezzato, ci fa molto piacere magari gli applausi in questo momento, anche se poi non sono così magari presenti nel senso di costanza, di prestazione, però devo dire che questo è un buon punto per poter ricominciare un percorso. Abbiamo dato seguito al secondo tempo di Francavilla, dove si era visto un buono spirito, al di là del non concretizzare, però sono incazzato, tra virgolette, scusate la parola, ma perché dobbiamo concretizzare? Abbiamo qualità davanti, abbiamo caratteristiche per poter concretizzare ora, non perché prima non l'avevamo, ma ora l'abbiamo un po' più specifica e quindi bisogna andare alla ricerca di questo. Buonasera mister, Carmine Trissi, Telefoggia. Le chiedo quanto è importante una prestazione del genere? C'è il rammarico, c'è l'amarezza, la rabbia o l'incazzatura, come dice lei, per la vittoria che non è arrivata, però per quanto riguarda la prestazione, oggi non si può improverare assolutamente nulla al Foggia. Ecco, quanto conta in un momento così complicato una prestazione del genere? Quanto può essere importante per uscire fuori da questo momento? Ma credo che sia un punto importante, è molto importante questo aspetto che abbiamo dimostrato oggi, perché senza questa voglia, questa determinazione, queste prestazioni, che poi sì, è vero abbiamo sbagliato qualcosa, siamo stati empiricisi, siamo stati a volte un po' sporchi, però devo dire che la voglia di voler fare, non dico di strafare, ma ci porta anche a fare questo in questo momento, però credo che sia una voglia positiva, una voglia che fa bene a questo gruppo, a questa situazione. Certo, dobbiamo sempre fare conto con la classifica in questo momento, però se ci facciamo condizionare da questo, perderemo secondo me l'aspetto prestazione, quindi dobbiamo essere molto coscienti di quello che abbiamo fatto e contenti secondo me oggi, però certo, 45 minuti in subita numerica, credo che potevamo e avevamo la possibilità di concretizzare e portare a casa i tre punti. E poi più che una domanda, una considerazione, ho visto qualcosa che personalmente non vedevo dai play-off, negli ultimi minuti la panchina tutta in piedi aspettando che il pallone entrasse, è anche questo un segnale di un gruppo che evidentemente ha tutto un altro spirito rispetto a qualche settimana fa? Sicuramente mi fa piacere di questo e a volte si esagera anche, però devo dire che è un aspetto positivo, ma credo che ci fosse stato anche prima, non sempre, magari con costanza, però credo che chi è stato fuori ha sempre partecipato con grossa enfasi, quindi sai, i minuti finali di oggi, soprattutto quando eravamo quasi sempre dentro l'area loro, ti porta magari a avere un atteggiamento del genere, però sono molto contento perché c'è grossa partecipazione al di là di chi sta in campo, quindi sono tutti aspetti positivi che non è semplice da trovare, però credo che in questo momento sono molto contento, mi fa piacere. Buonasera, mister Giovanni Vigilante, solo Foggia. Uno dei giocatori che già conosceva, dei nuovi che già conosceva, era Tengorang che è iniziato dal primo minuto. Come valuta la prestazione di Tengorang? Più che altro come lo ha trovato dal punto di vista fisico? e qual è la percentuale in cui gli altri che sono subentrati poi alla fine, Rolando piuttosto, cioè Rolando oppure Gagliano, chiedo scusa, possono contribuire al Foggia e che percentuale di preparazione hanno? Di Giorgio lo conosco molto bene, quindi deve ritrovare Mario in una condizione migliore, è stato fermo un po' per un problemino che aveva avuto a Lecco, però l'ho trovato in buone condizioni, oggi ha fatto 70 minuti, credo, di buona intensità, soprattutto nel primo tempo dove si è inserito molto, ma le caratteristiche sono queste, e quindi sono molto contento della sua prestazione, come lo sono anche degli altri, chi più chi meno, con qualche minutaggio in più. Dovevamo sfruttare molto di più, credo, le caratteristiche di Rolando, servirlo molto più per il piede per cercare l'uno contro uno in questa situazione, Ercolani e Gagliano, credo, abbia fatto spezzone di partita, sono tutte situazioni che man mano fa sì che poi si conoscano meglio in campo, e quindi c'è stata la necessità di farlo con Carillo che abbiamo preservato per non andare in contro problematiche, quindi sono molto contento di quello. Ci possono dare la mano tutti quelli che abbiamo preso, chi più chi meno, con le caratteristiche, quindi le condizioni sono discretamente buone quasi per tutti, perché poi Rolando ha giocato con Costanza, Ercolani ha giocato con Costanza, Gagliano forse ha giocato un po' meno, anche se ha avuto possibilità di minutaggio, quindi sono tutte situazioni che ci daranno strada facendo delle buone risposte che ci aggoliamo. Grazie. Prego. Mister, buonasera, Manolo Sappio Cazzetto dello Sport. Si è arrabbiato molto sul gol del Catania, anche perché ieri parlava di dettagli, di cura dei dettagli, cioè l'unico tiro in porta poi del Catania, il Foggia ha subito il gol. Sì, è vero, è vero perché eravamo anche, non dico in subita numerica, credo, adesso devo rivedere bene, ma quantomeno in parità numerica, quindi non possiamo nelle seconde palle, soprattutto in quelle situazioni, concedere questa situazione qua, addirittura con un quinto di centrocampo, come in quel momento era Pisarda, quindi il quarto di centrocampo, quindi dobbiamo migliorare. Ci abbiamo pagato anche oggi, poi siamo stati bravi a rimetterla, però devo dire che possiamo stare molto più attenti in queste situazioni. E quindi sono molto, sì, sinceramente mi hanno fatto molto arrabbiare, perché non meritavamo forse di andare sotto in quelle circostanze, perché aveva fatto molto poco, credo, il Catania, e quindi bisogna migliorare. I dettagli, come ho detto, fanno la differenza. Il tridente, Milligo e Santaniello, si sono trovati, sembrava un tridente collaudato, soprattutto all'inizio partita, quando Milligo poi ha avuto quelle due occasioni per far subito gol, no? Sì, paradossalmente le migliori occasioni che ha avuto Vincenzo sono state in parità numerica pronti via, dove è riuscito a entrare in aria e a puntare e anche a tirare in porta. Poi sono tempo vuoi perché loro si chiudevano molto dietro e non è mai riuscito a incidere come dovrebbe. Mi aspetto molto, ci aspettiamo molto da lui, però deve capire che non deve risolvere le cose da solo. Deve cercare di mandare anche i compagni qualche volta, quindi questo fa sì che poi traiamo vantaggi un po' tutti, no? Come oggi abbiamo portato troppo palla forse nell'andare a cercare i due contro uno sugli esterni, dovevamo fare più stop e passaggio, quindi sono situazioni che bisogna migliorare e soprattutto riconoscere, perché poi dopo non c'è tempo e quindi bisogna riconoscere molto velocemente. Abbiamo avuto la fortuna di stare in subito a numerica e questa dovevamo sfruttarla ancora di più nonostante abbiamo avuto, credo, sono tempo che abbiamo giocato quasi sempre nella metà campo avversario, quindi però dovevamo essere molto più ancora perseveranti in alcune situazioni. Un'ultima, gliela chiedo, Schenetti è in rosa, è recuperabile o no? Schenetti per ora era in lista di partenza, abbiamo fatto delle scelte ben precise, quindi per ora credo che sia fuori, quindi questa è la condizione che abbiamo deciso, ma al di là del mercato non è riuscito magari forse a trovare sistemazione. in questo momento è una lista di 23, dobbiamo completarla, stiamo vedendo, ma credo che possa essere fuori dalla lista. A posto, grazie. Ok, arrivederci. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.